Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie, Mattia. Mattia! Mattia! Oh, fubè! Sei carico? Sei pronto? Sei pronto? Fubè! Amor! È in costume, Vecina! Vieni qua, Francesco! Allora, io ho fatto un piccolo test di cultura, noi siamo in Brasile, capitale del Brasile? San Paolo. È in Brasile. È San Paolo. È in Brasile. Cosa si commettete? Qual è la capitale? È in Brasile. Cazzo! Però non devi fare così perché poi io... Ah! Bar! 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 Chat! Ma sento che ti muovi, se io faccio così! Bar! 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 E non segate voi? Ma ti vai a mettere delle calze? Ma poi è sporco qua, se ero per te. Ma infatti c'hai i pedi neri. Ma io devo diventare... Ah! Sempre quello! Virginia è dio cane! Porca madonna! No! 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 Oddio! Porca oddio! No! No! Porca madonna! No! Virginia Bellana! È San! Che l'ha sta, Virginia? Vai! Oh! Madonna! Non c'è questa roba? Vai, Jenny! No! Oh! Eeeh! 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 Va caraco! No cazzo vuol dire caraco! Caraglio! Caragno! E' quello di caraco! E' quello di caraco! E' quello di caraco, Ale! Cazzo! Cazzo abbiamo detto, ha detto sì, va cazzo! Bro, stanno fanno sbarco, bro! Vieni, vieni di qua! No! No, Alexi! Oh madre deo, che ho fatto? Madre deo, vieni qua! Che combinao? Che combinao? Devi fare il mio, non va bene, Alexi! Che combinao? Ma non va bene! Come va bene? Alexi! Alexi, non ti puoi scopare ogni trans che vedi? Allora... Alice è vero che non è trans, mentre non... Ah, è vero... Ma non si poteva dire questa cosa? Puoi dire che ti... Alice! Alice! Altrattola, manca il telefono... E' cibo! Ah! Tu stai a vedere da voi! Poi ci arrivo! Ah! 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 C'è una stasola... C'è una stasola... è nera l'amore si va bene mentre la minchia te l'appoggia lo stronzo guarda guarda l'unico la minchia la minchia nella schiena te l'appoggia sento un magname sul telefono 2-1 brasiliani in merda no abbiamo vinto noi altro caldo Giovanni vai andiamo a scrivere ragazzi mamma mia ho veramente fame non avete conto sullo stato ragazzi a me mi fa male proprio il cuore sei nuda? sei vestito? stai andando ragazzi non so come verso l'isola non so come è possibile sta ancora andando sta ancora andando ragazzi spam spam di pa per favore spam di pa di fico spam di isola no non avvicinare cioè non mettermi col pub lui mi ha detto mamma sei più alto dal vivo alzatemi un attimo alzatemi un attimo alzatemi un attimo tiriamoci in guazzo certe volte basta anche poco allora Giulia perché sei venuta qua in Italia apposta per un'altra bello eh è una merda che cazzo dici un'ora 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 e noi siamo qui che ho il terzo yacht più grande del mondo 50.000 euro ogni volta che stiamo live Virginia fa capire la vodka sul computer buono buono sì buono è un mega cazzone mmm 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 l'abbiamo ordiato di drink eh andate a fare il culo va vai vedete guardalo 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 ragazzi come sono belle le live di spiaggia è un mio cucino dove dormivo è un bacio guardalo pulisce adesso se no è una bella pagina guarda che bella puoi evitare in camera non ti fai queste cose ma come se non so no c'è traga ma ci sono ehi ma si è cucito per non poterli eh guardalo ah il drago è messo che ci vuoi vedere il tuo armadio non c'è l'armadio guardalo il mio armadio farlo vedere ragazzi il mio armadio è questo ma chi sta puttando fai vedere quello Alex mi dite a vedere questo eh era questo eh sì è vero c'è il cazzo cosa ne pensa che si deve sapere come è andata la cosa ce l'ha meglio pippato anche basta Alex non puoi pippare continuamente voglio vedere cosa si sono portate per due giorni fa caldo no dai non toccato non toccato non toccato dice il temperino cazzo ti fai ridurre ti fai compito no no nel caso esplode nel caso sa che vai andiamo fino là ma non tolta se volete arrivare ma è l'isola guarda no là è basso questo è l'essere del sole guarda 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 proviamo ragazzi andiamo verso di là guardiamo è la isla ma la pompe passe marea 4, 5, 6 è la parte più bella dell'howskill no no si può far vedere è la parte più bella dell'howskill ah ok certo vai un 360 se ti va come si fa 8 come ti pare certo certe volte basta un applauso basta un applauso certe volte e nient'altro c'è veramente pochino grazie 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 grazie